Ecco, dopo il tempo stupendo del Natale siamo entrati liturgicamente in quello che è chiamato il tempo ordinario. Tempo ordinario che è pure bello perché in fondo la vita è fatta di ordinarietà e se noi celebriamo i grandi accadimenti della nostra fede è per poterla poi celebrare e vivere dentro le cose di tutti i giorni, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nella vita di società. Quindi il tempo ordinario ci dice che la vita è impastata quotidianamente di Vangelo, di grazia del Signore. Ci sentiamo accompagnati da Lui. E dentro questo anno liturgico e questo tempo ordinario in modo particolare riprendiamo anche in modo abbastanza continuativo la lettura del Vangelo che ci è consegnato quest'anno e che è il Vangelo di Luca. Vangelo di Luca che ha delle caratteristiche sue particolari. Ecco, credo Don Giovanni che forse è il caso un po' un accenno perché i Vangeli sono quattro, tutti e quattro parlano di Gesù Cristo, chiaramente dicono della sua storia, della sua vita, della sua testimonianza, del suo messaggio, però ne parlano magari con delle modalità un po' diverse. Soprattutto diremmo l'Evangelista Luca e in questo anno è importante che lo evidenziamo che viene chiamato l'Evangelista della Misericordia di Dio. Don Giovanni, qualche accenno forse ci sta bene al senso di questi quattro Vangeli e in specifico di questo Evangelista Luca. Tutti e quattro annunciano sempre la bella notizia del Signore. Qual è questa bella notizia? Che Dio ha impegnato per noi uomini suo figlio, non ci ha mandato giù 30.000 euro, ha impegnato suo figlio, il quale non si è punto un dito ma è morto in croce per te. Però ogni persona, Dio rispetta la propria personalità. Marco, essendo stato insieme con Pietro, vuole dimostrare soprattutto questo, che quell'uomo non è solo un uomo, lo dice il centurione, alla fine è il figlio di Dio. Da come parla, da come muore, non può essere solo un uomo, è Dio. Quindi un pagano dice che Gesù è Dio. Matteo, che conosceva bene la Bibbia, conosceva tutti i versetti, diceva e continua a dire questo è avvenuto perché si verificasse quello che era stato scritto per mezzo del profeta Michea, Isaia, Geremia. Quindi Matteo vede in Gesù la realizzazione di tutte quelle promesse che Yahweh aveva fatto in 2000 anni. Luca invece dice il contenuto di tutto questo messaggio di questo uomo Dio è uno, è la misericordia, è l'amore. Difatti Dante lo chiama scriptor mansuetudinis Christi, lo scrittore della mansuetudine, della bontà del Signore. E penso che il capitolo 15 di Luca, che è la parabola del padre misericordioso, del buon pastore, della moneta persa e ritrovata facendo festa, sino proprio l'immagine. Poi c'è anche Giovanni, Giovanni mi dice tutte queste cose le sapete. Io faccio una grande riflessione su Gesù che è luce, che è verità, che è il progetto. Quindi Giovanni fa un prologo e racconta solo sette miracoli per dire sono numero perfetto, se capisci queste sette cose hai capito chi è Gesù. Quindi ognuno mette Gesù però secondo la propria prospettiva e anche la comunità nella quale vivevano a quei tempi. Bene, Luca scrittore della misericordia di Dio, però è interessante che Luca parte con una suonata perfetta per far capire una cosa molto semplice, che non ha intenzione di raccontare frottole, che non sta raccontando barzellette, che non vuole dire favole per addormentare bambini, ma che quello che racconta risponde alla verità storica. Credo che sia un fatto importante questo qua, perché tante volte ce lo chiediamo, ma Gesù, ma quello che ha fatto, ma quello che ha detto. Ecco, Luca dice chiaramente, fate bene attenzione a quelle prime righe del Vangelo di Luca che vengono proclamate proprio in questa domenica. Molti hanno indagato, molti hanno fatto ricerche. Io ho cercato di raccogliere tutto, di andare addirittura a testare tutti i testimoni possibili e immaginabili, perché quello che scrivo sappiate che lo scrivo secondo verità storica. E perché credendo che queste non sono frottole, ma è la verità che Dio ci propone, abbiate a trovare la vita e una vita vera. Don Giovanni, credo che non sia secondario questo aspetto qui, anche perché oggi c'è in giro anche qualche piccolo pontefice che si crede anche nelle nostre televisioni o sui giornali, che continuano a seminare dei dubbi. Ce n'è uno di cui non faccio il nome perché non vorrei fargli neanche propaganda, anche perché qualcuno compra anche i libri di questo tipo qui, oltre che ascoltarlo, così lui si ingrassa e va a fare le ferie con i vostri soldi, intanto che vi racconta storielle e vi mette dubbi nell'animo. Cioè il fatto che a un certo punto qui ci troviamo di fronte a dei miti, ci troviamo di fronte a delle favole, eccetera. C'è in giro questa tentazione che corre appunto e tanti cristiani, leggendo, ascoltando, rischiano di essere messi nel dubbio. Credo che prendere in mano o riprendere in mano Luca possa essere importante e decisivo per una comprensione della storicità della nostra fede. Beh, Luca prima di tutto è un medico, una persona istruita, è un pittore, è uno veramente chi conosce il greco, che scrive in una maniera perfetta e bellissima e praticamente il Vangelo non è c'era una volta, è una fiaba o magari così un mito. I miti hanno bisogno di secoli e secoli per formarsi e Luca dice date precise, personaggi precisi, luoghi precisi. E poi carissimi che ci ascoltate, guardate che più nessuno oggi mette in dubbio l'esistenza di Cristo. Più nessuno, perché addirittura è diviso la storia in due, prima e dopo Cristo. Se mai il problema che ti resta è questo, ma quell'uomo il più grande di tutto, vissuto, nato a Betlemme, vissuto a Nazareth, morto in croce e rischio, era proprio Dio. Ecco questo, toccate, perché se no sarebbe un'imposizione di Dio, cioè il credere che quello è proprio Dio, che quell'uomo di Nazareth è proprio Dio, oltre che vero uomo, è una scelta che devi fare tu, ascoltando il Vangelo, ragionando con la tua testa e sentendo il tuo cuore. Però ricordatevi, più nessuno oggi mette in dubbio l'esistenza di Cristo, perché se no bisognerebbe cancellare tutto, perché sono troppi i segni storici, archeologici, artistici, poetici, che parlano di lui, addirittura prima e dopo Cristo. Ed è una cosa che fa un po', diciamo così, specie, se vedere gente laureata, che parla in televisione, scrive sui giornali, e sa quasi niente di colui che ha diviso la storia in due, che si chiama Gesù Cristo. Ne sanno talmente poco da volerne però parlare, e da voler pontificare, e da voler saperla lunga. Diremmo così che c'è un'ignoranza religiosa, ignoranza nel senso di non conoscenza, tanto quanto se ne vuol dire. Sarebbe bene magari un po' di umiltà e un po' di studio anche attorno a questo. Tra l'altro Don Giovanni, io penso un momentino anche tra i nostri cristiani, tra di noi, che appunto tante volte ci lasciamo interpellare da questi personaggi della televisione che sembra che la sappiano lunga. A proposito della nostra fede in Gesù Cristo, a proposito del credere e del fidarsi di questa testimonianza che percorre i secoli e che è arrivata fino a noi, ma i nostri genitori, i nostri nonni, che hanno vissuto secondo questa fede, che ce l'hanno consegnata come l'eredità più importante per la nostra vita, ma pensiamo proprio che erano degli allocchi, che erano lì a pendere dalle parole degli altri senza riflettere, che non avessero la capacità di andare a interrogarsi sul fatto appunto che la fede non è una bazzeccola o non è una favola ma è qualcosa di radicato nella storia perché poi è radicato nella vita. Cioè io credo che dobbiamo un pochettino ripensare a chi ha vissuto e ci ha consegnato questo dono della fede pensando appunto che non erano degli sprovveduti. Non guardavano la tv ma guardavano al cuore, alla mente, incominciando dagli apostoli che per questa fede in Gesù hanno dato la vita, tutti in posti diversi e veramente cosa è? Perché a volte si parla male della chiesa, certo è un ospedale diciamo di peccatori, non è un museo, però quanta gente nella storia, iniziare dal tempo di Cristo, ha dato la vita per lui e per queste idee perché erano davvero convinte. Quindi dobbiamo molte volte non ascoltare gente che vende cose superficiali o addirittura si ferma su cose molto esteriori perché adesso programmi interi che vanno su apparizioni, miracoli, segni che vedono. Andiamo all'essenziale cioè il Vangelo letto, studiato, domandato, testimoniato, la tradizione della chiesa, l'insegnamento del Vescovo e dei Papi, la liturgia. Cosa vogliono dire quei segni che magari io penso che tante volte, se tu chiedessi anche a un cristiano perché il prete mette certi paramenti durante la messa, perché beve fuori dal calice, perché o non so fa il segno della croce o perché non sanno niente. Difatti oggi il pericolo grande del cristianesimo adulto, che poi si riflette anche nei ragazzi, è l'analfabetismo religioso e cristiano. Io una volta avevo lì in Santa Caterina, facevo l'oratorio, avevo sempre dei biglietti dall'Atalanta, una volta avevo un po' di tempo, ho portato su un ragazzo a vedere Atalanta Inter, ti do il biglietto. A metà partita mi fa, ma cosa fanno quelli che con la maglia nero-azzurra corrono indietro a quelli con la maglia bianca e uno in mezzo con la maglia rossa continua a fischiare. Io ho capito che lui non sapeva le regole del calcio, siamo venuti a casa. Così portare in chiesa o a un sacramento, gente che non sa né niente di quello che Cristo ha detto, addirittura mettono in dubbio l'esistenza dicendo, è così una cosa da preti? Cosa vuoi che capiscono? È un grande pericolo questo e Luca ce lo dice. Attenti che vi sto dicendo, non delle stupidate, ma l'essenziale della vostra vita. La base storica della nostra fede. La fede ovviamente è qualcosa di più perché è grazia, è dono, è illuminazione dello Spirito Santo sulla vita, però ha una sua radice, una sua base nella storia. Tant'è che Dio è entrato nella storia dell'umanità e si manifesta dentro la vita e dentro la storia. Ancora oggi la liturgia che celebriamo sono segni concreti, sono segni storici. Il trovarsi della comunità cristiana è un elemento visibile. Ecco, lì Dio si incarna ancora oggi. E qui viene fuori l'altro elemento che Luca in questa domenica soprattutto vuole aiutarci ad evidenziare. Quando Gesù, tornato alla sinagoga di Nazare, dove era cresciuto, prende in mano il rotolo del profeta Isaia, le legge un pezzo, dice mi ha mandato lo Spirito del Signore su di me, mi ha mandato ad annunciare il lieto annunzio, a liberare i prigionieri, eccetera, a poter sollevare i malati e così via. Oggi si realizza per voi questa profezia. Don Giovanni, quell'oggi di duemila anni fa è l'oggi di questo nostro tempo. Come a dire, Gesù Cristo ti è contemporaneo. Non è semplicemente da pescare duemila anni fa. Gesù Cristo è oggi, è tuo contemporaneo. Qui ci giochiamo il senso vero anche della nostra fede. È proprio questo, la differenza tra Gesù e qualunque personaggio della storia è proprio che lui pretende di essere tuo contemporaneo. Prova Don Leone a domenica, interrompi l'omelia e dici chi è che sta dicendo messa a Torre Boldone? Senti le risposte. Don Leone, Don Giuseppe, Don Giovanni, sta dicendo messa Gesù Cristo. Chi è che battezza? È Gesù Cristo. Chi è che assolve? Certo attraverso il segno della sua Chiesa. Quindi è questa contemporaneità, cioè il fatto che Gesù non è chiuso là nella storia dicendo raccontiamo i fatterelli, ma che quello che tu sai Gesù lo continua nel tempo e nella storia attraverso una comunità che si chiama Chiesa. La Chiesa che cosa è? Il mistero di Gesù che continua nel tempo e nello spazio per noi. nel tempo, quindi arriva al 2016, nello spazio è a Vertove, a Torre Boldone, ma è a Canicattia, New York ed è a Pechino, cioè è in tutto il mondo. D'altronde non poteva fare se non così Gesù per essere tuo compagno di viaggio. Quando parliamo di incarnazione vuol dire che lui si mette, prende carne, e prende visibilità nella storia degli uomini, in un popolo che noi chiamiamo Chiesa, gente chiamata a far parte della sua storia. È forte questo nostro Luca. Luca ci dice della storicità di Gesù Cristo, ci dice che questa storicità non lo ferma in quel tempo, ma nella fede, perché lui è irrisorto, si fa presente attraverso la comunità che lui ha voluto, la Chiesa in ogni luogo, in ogni tempo, si fa presente per te oggi, contemporaneo tuo, per poter avviare un anno di grazia. Dice così il Vangelo di questa Domenica, inaugurare un anno di grazia del Signore. È chiaro che l'anno di grazia non sono i 365 giorni, è il tempo tutto, sono i secoli interi. Però è bello pensare un pochettino a questa frase di Gesù, legata un po' a questo anno di grazia, questa volta sì, legato a un certo tempo, che noi chiamiamo il Giubileo. Forse è l'occasione proprio per capire, alla luce delle parole di Gesù, che cosa succede in questo anno del Giubileo per chi lo vive poi secondo lo spirito giusto. Giubileo, gioia, gioia, festa. Perché? Prima di tutto per Dio, perché Dio non è l'assente, il tiranno, il menefreghista, il concorrente, ma Dio ti è padre e madre, Dio è misericordia. Quindi in quest'anno scopri un Dio, come sempre nella vita, che ti è vicino, che è venuto non a complicarti la vita, ma ad aiutarti. Seconda cosa, in questo anno di Giubileo tu scopri che sei un povero, un prigioniero, un peccatore, un disgraziato. Io ad esempio vado a messa perché non sono bravo, celebro, perché ho bisogno di lui, perché se uno è più bravo di Dio, cosa se ne serve Dio? Non gli serve niente, quindi mi sento peccatore, mi scopro in questa storia dove il Signore gode nel perdonarmi e nell'aiutarmi ad essere sua immagine, quindi mi scopro peccatore e poi scopro che quelli che sono accanto a me non sono degli individui o dei cretini qualunque, ma sono i miei compagni di viaggio che il Signore mi ha messo accanto perché la mia vita sia felice. Ecco allora perché lui libera i prigionieri, quelli che sono prigionieri del peccato, delle ideologie di se stessi e i poveri. I poveri sono quelli che sono mari pieni anche di soldi, ma non sanno neanche perché li hanno, cosa sono al mondo a fare. I ciechi sono qui ma non sanno neanche la direzione della vita. Quindi io sono venuto perché in quest'anno, in questa storia, tu scopri la grandezza di Dio, la bellezza della tua vita e che come quelli che ti ho messo accanti sono dei regali che ti ho messo accanto perché tu abbia come un anticipo dell'amore che io ho. Certo, se tu vedi che io ti amo e ti voglio bene, anche tu non fare a gomitate con gli altri, cerca di capirli che sono i tuoi fratelli, le tue sorelle, cioè di creare questa nuova mentalità che è quella appunto di gioia, di felicità perché nonostante tutto gioca in squadra lui. Quindi se siamo anche dieci brocchi, lui è il campione, quindi vinceremo di sicuro. Bene, l'anno di grazia, l'anno del giubileo, un po' una ripartenza nella vita, un po' un riconoscere finalmente il volto buono di Dio, un tempo di riconciliazione. In questo senso do Giovanni anche i gesti che vengono chiesti a coloro che vogliono vivere il giubileo, credo che giocano proprio in ordine a questo, non sono finalizzati a se stessi. Faccio questo, questo e questo, ho ottenuto l'indulgenza del giubileo. Sono finalizzati alla vita quindi i gesti che siamo chiamati a compiere nel giubileo. Il Signore non ama le macchinette dove metti dentro un euro, ti scendono le caramelle. Cioè il Signore ha tutto un altro modo di vedere le cose e quindi ogni cosa che fai è per la tua vita, che non è una vita fatta di cose magiche o meccaniche, ma di amore. Quindi se io mi sento abbracciato nella confessione, abbraccio gli altri. Se faccio l'amore con Gesù nella comunione, cercherò di fare l'amore con il prossimo. Se io vado a una chiesa giubilare, mi sentirò un uomo pellegrino. E un pellegrino verso dove? Verso la casa del padre. Se questi sono fratelli, io non li fregherò, cercherò un'opera di misericordia, almeno una, per cercare di rendere questo mondo un po' migliore. Quindi non sono gesti magici, ma gesti che centrano con la nostra vita di uomini, figli di Dio e fratelli e sorelle. Potrebbe essere una cosa bella in questo anno del Giubileo, lo leggiamo anche la domenica nella liturgia, leggerci magari anche personalmente questo benedetto Vangelo secondo Luca. Vangelo secondo Luca che ci offre il volto misericordioso di Dio, Vangelo secondo Luca che ci dà le garanzie, e che non stiamo correndo dietro alle farfalle o alle favole, ma a un Gesù che è venuto a mettere piede su questa terra e che è il figlio di Dio, quel Gesù appunto che si fa nostro contemporaneo per accompagnarci oggi nel cammino della salvezza, nel cammino della gioia, nel cammino della speranza. Quel Gesù che inaugura con la sua venuta questo anno di grazia, che è tutto il tempo che ci è dato, ma che ci è significato anche in questo anno del Giubileo, che vorremmo un pochettino tenere prezioso, proprio per riscoprire la bellezza della nostra fede, la chiamata alla carità e la certezza di una speranza che ci fa alzare lo sguardo da questa terra e sapere che stiamo camminando incontro al Signore che ci raccoglierà tutti nella sua casa. Grazie Don Giovanni della tua presenza e testimonianza. Ringraziamo sempre voi che ci avete seguito e come sempre l'augurio di una buona domenica.